Buongiorno a tutti, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Focus Periferie. Qui con me in studio, come sempre, il nostro Walter Cherubini, presidente della consulta periferia Milano. Buongiorno, Walter. Buongiorno, ben ritrovati a questa che è la 185esima puntata di Focus Periferie. 185 però, insomma... 185, insomma, è un numero quasi tondo, diciamo così. Ultima puntata della stagione. Chiudiamo questa stagione e poi ci risentiamo a settembre, va bene? Ci sentiremo a settembre, certamente. Siamo qui, certe cose non cambiano mai, la certezza è sempre questa, che appunto il Focus Periferie, la nostra voglia di parlare di periferie, c'è sempre e anzi con interessanti ospiti che ci porti. Chi ci hai portato quest'oggi? Oggi abbiamo invitato Dario Bossi, che è componente della consulta del presidente di Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza. Una realtà, quella di Confcommercio conosciuta sicuramente, ma molto spesso vediamo le realtà, per quello che è un po' la nostra visione, la nostra parte. Non lo so percepito. Sul percepito. Invece è interessante anche capire come si muovono determinate organizzazioni cittadine che hanno, cittadine ma anche pluricittadine, poi hanno anche un livello nazionale e parleremo sicuramente anche di un'iniziativa che ha un quadro nazionale, che poi ha anche delle possibili declinazioni milanesi con appunto Dario Bossi. Allora, buongiorno Dario Bossi, benvenuto a Confcommercio, insomma appunto il nome è conosciuto da tutti, però appunto diciamo a volte magari abbiamo un percepito sbagliato di che cosa realmente poi si faccia e di cosa realmente sia la missione appunto che ha. Ma sa, nell'immaginario tanta gente confonde la Confcommercio con la Camera di Commercio, classico. Beh direi che è un'associazione di commercianti e sul territorio milanese, fra l'altro abbiamo l'anno prossimo un bel evento, facciamo 80 anni. 80 anni. Tra l'altro è interessante, pochi sanno, che la Confcommercio nasce a maggio del 1945 a Milano, in piazza Belgioioso, quindi diciamo la nascita milanese e poi ovviamente è andata a Roma. Maggio 45, qualcosa di pionieristico, si usciva veramente dalle macerie. Esatto, 80 anni di storia. Ovviamente siamo radicati su tutto il territorio, per tornare invece alla nostra realtà, Milano, che fa parte di Monza, Lodi e Brianza, ha circa 40.000 associati e ha tre grandi direttrici, perché sul territorio, molto importanti, e forse queste sono quelle che interessano più di tutti anche al nostro argomento delle periferie, ci sono le associazioni di via. associazioni di via, che sono una realtà, specialmente, devo anche dire, sicuramente nelle zone centrali, ma forse più sentite nelle zone periferiche, come Niguarda, come Quarto Cagnino, come Turro, cioè zone che poi in fondo erano, tanti anni fa, delle piccole cittadine. E allora, parlando di pallavolo, che intanto ne parliamo, qui c'è una bella alzata, prego che Romini, che può fare una bella schiacciata adesso. La prima cosa che possiamo dire è che Consulta Periferie Milano, appunto, che è stata così promossa 18 anni fa, quindi nel 2005, delle nove associazioni promotrici, tre sono associazioni commercianti di via. Quindi c'è sempre stato un rapporto tra chi opera sul territorio e cerca di animare il territorio. Uno dei punti significativi anche di questo percorso di attenzione è quello della desertificazione, perché noi abbiamo complessivamente la città di Milano, vista dall'esterno, che si muove. Dopodiché, nelle sue articolazioni particolari, non tutte le aree sono uguali. Diceva Dario Bossi prima dell'ottantesimo, nel 2023 abbiamo ricordato i cento anni dell'aggregazione degli antichi comuni milanesi all'allora comune di Milano e, in particolare, nello scorso febbraio a Palazzo Reale abbiamo fatto un'iniziativa chiamata il Centenario Sociale, dove abbiamo riconosciuto tutta una serie di realtà, più di 80, presenti sul territorio all'ora, più di cento anni fa anche adesso, e metà di queste 80 realtà sono proprio costituite da esercizi commerciali di vicinato, che possono andare da chi fa ristorazione, piuttosto che chi fa il panettiere, piuttosto che chi fa il farmacista anche, perché ci sono proprio una significativa realtà che rappresenta un pochettino quello che è il filo conduttore della storia di Milano. Da cento anni sono un elemento, il contributo a Milano, che vale la pena conoscere. Io tornerò a quello che diceva prima, Bossi, le associazioni di via, interessanti, spesso e mai ce ne accorgiamo solo quando c'è la festa del quartiere o la festa di via, ma in realtà fanno molto molto di più, immagino. Sì, sicuramente. L'organizzazione appunto milanese è divisa in associazioni di categoria, ovviamente. Oltre alle associazioni di categoria ci sono le associazioni di via e in genere le associazioni di via si, diciamo, intersecano con le categorie. L'associazione di via è chiaro che cerca di rispondere un po' sul territorio. Ad esempio, il nostro Presidente Sangalli dice sempre che quando una luce si spegne a Milano, si spegne un pezzo della città. Quindi è chiaro che stiamo vivendo delle difficoltà, ovviamente, e soprattutto per due casi abbastanza importanti. Il post-Covid, che evidentemente ha creato delle situazioni di grossa difficoltà, anche se il post-Covid ha portato a determinate categorie, faccio un esempio, un piccolo negozio di elettrodomestici, a poter stare aperto per dare un servizio, mentre la grande distribuzione durante il lockdown ha dovuto chiudere. Quindi sono rimaste delle sentinelle, perché se uno gli si rompeva la lavatrice aveva la necessità di... E quindi questa funzione resta molto importante. Anche se, oggi come oggi, la nostra organizzazione, sì, ha ancora la parola commercio, ma esiste il turismo, i servizi e soprattutto i servizi. Cioè stanno nascendo nuove realtà e soprattutto c'è un cambiamento epocale che con l'intelligenza artificiale rivoluzionerà anche il nostro mondo. Perché sicuramente bisogna fare i conti con questa rivoluzione. Lo rivoluzionerà. Con questa rivoluzione che poi continua, perché immagino, insomma, dagli anni 90 in poi, con l'avvento magari dell'intra, con l'avvento dell'e-commerce, con l'avvento del delivery, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, appunto non è più solo commercio, come magari potremmo concepirlo anche solo dieci anni fa, senza andare indietro chissà quando, ma è tutto un mondo fatto di nuove realtà. Di nuove realtà. Tanto è vero che c'era stato un tentativo alcuni anni fa di cambiare il nome. Tanto è vero che sotto il layout ConfCommercio c'era Imprese per l'Italia. Ma poi direi che il nome ConfCommercio era decisamente più importante. però è rimasto, diciamo, il capostipite. Ma di fatto di dietro, come ha detto giustamente lei, sono nate complessivamente una serie di categorie che fino a 15-20 anni fa non esistevano. Poi non dimentichiamoci la novità, specialmente nel campo della telefonia. Le do solo un dato. A Milano sono aperti 550 negozi di riparazione di telefonia. 550 negozi solo a Milano che riparano telefoni. Esatto. E l'80% sono cinesi. Però, insomma, quindi sicuramente c'è qualcosa di... Ci sono dei cambiamenti veramente trasformati. È vero, faccio un esempio, è sempre più difficile trovare un macellaio, è sempre più difficile trovare un fruttivendolo. Però, ad esempio, in questo momento stanno... Se lei gira un po' per la città, anche alle 9, alle 10 di sera, vedrà dei negozi, ovviamente, multietnici, che restano aperti. Quindi c'è un cambiamento completamente diverso rispetto a 10-15 anni fa. Cambiamento che, come sempre, si vede spesso e riprimano le periferie, arrivare invece, no? Ma il tema delle periferie... C'è un tema che pone il commercio, che è quello della desertificazione dei territori. E diceva appunto Dario Bossi che c'è un cambiamento epocale e si diceva nel Covid, e dopo il Covid, che nulla sarà come prima. Ora, noi abbiamo una realtà che si va trasformando. Esiste un problema di quelle che sono le normative che regolano la città che invece sono rimaste un pochettino quelle che c'erano prima. E quindi non accompagnano anche questo tema della desertificazione. Può essere accompagnato dalle regole nuove oppure no? Nel momento in cui noi abbiamo dei territori che sono scoperti di servizi, abbiamo anche delle regole che, nella sostanza, non prevedono un incentivo e un favorire l'insediamento di servizi sul territorio. Ora, uno dei temi è proprio quello dell'utilizzo, dello sfitto, delle proprietà a terra. Quindi stiamo parlando di negozi e aree artigianali. A Milano, di proprietà pubblica, diciamo così, per rimanere solamente alle case popolari, e quindi alle RMM, noi abbiamo qualcosa come 800-900 aree che non sono utilizzate e generalmente sono sparse su tutto il territorio periferico. Allora, è meglio tenere un luogo sfitto che normalmente lo lasciamo al degrado oppure darlo con modalità innovative. Per cui anche, non dico in concessione gratuita, ma se uno fa un servizio, tu come città preferisci avere un servizio al tuo territorio oppure no? Perché questa è una domanda. Altrimenti noi ci trinceriamo in quelle che sono un po' le regole consuete, ma se nulla sarà come prima, noi non possiamo ragionare in termini di regole consuete. Quindi questo deve essere un focus che la comunità milanese in generale, in particolare la comunità amministrativa, si deve porre perché altrimenti tutto rimarrà com'è e però non fai conti con questo cambiamento che c'è. Quindi noi avremo, come abbiamo, delle zone che sono piene di cose e invece delle altre che sono desertificate, proprio perché Milano è molto complessa come realtà. Insomma appunto il tema della desertificazione è un tema interessante. Diciamo prima appunto che anche il vostro Presidente lo dice ogni volta com'è, ogni luce spenta... È un pezzo di città che muore. Come si può fare appunto per contrastare questo? Giustamente come dice il Presidente Cherubini, esiste evidentemente delle rigidità della nostra amministrazione, esiste anche un po' di burocratizzazione. È ovvio che andando nelle periferie si vede chiaramente molte serracinesche chiuse e devo dire non solo, ci sono grossi cambiamenti anche se lei andasse in Corso Buonessares vede dei grossi cambiamenti, ma lì sono problematiche diciamo diverse. Evidentemente ci sono due aspetti. Come associazione cerchiamo di favorire soprattutto i giovani che vogliono intraprendere. Non a caso anche il Comune, a volte anche la Regione, ci sono dei bandi che servono e aiutano per fare delle start-up. Devo dire che negli ultimi anni le start-up sono sempre state più start-up tecnologiche che non start-up. Perché è vero, questa cosa del fare la start-up ad alto potenziale tecnologico. Ad alto contenuto più. Faccio un esempio. Satispei nasce da due giovani che quindi hanno costituito e hanno portato avanti. È ovvio che l'aspetto, perché ci sono anche delle incongruenze. Se lei gira per la città e va nei vari locali, cercasi personale, cercasi personale nella ristorazione. Quindi c'è anche da dire che i giovani hanno delle difficoltà e quindi il pensare di poter iniziare un'attività commerciale non è facile. Anche se, a volte, si usa la vetrina, diciamo, sulla strada per un'attività. Le faccio un altro esempio. Se gira la città, quanti esercizi vede? E quello è un servizio di affitto o di vendite di case. In ogni via. Le faccio un'altra diversità. Dici anni fa, se lei doveva fare un esame del sangue, aveva tre, quattro punti di riferimento. Oggi, ormai, in una via, esiste un ambulatorio per il prelievo che può essere dei vari istituti, dei vari laboratori privati. Quindi c'è sempre una tendenza di andare verso il cittadino. Cioè, il cittadino ha la possibilità, in tante vie, di poter fare il suo esame del sangue e non avere problemi. Quindi vede che ci sono tanti cambiamenti e quelli, in fin dei conti, sono dei piccoli presidi. Eh, ma il presidi è fondamentale, come dicevi tu, Walter, prima. Ecco, è interessante però capire, rispetto appunto, nulla sarà come prima, cominciare anche a fare qualche riflessione su, vabbè, ma allora che cosa possiamo fare? Per rispondere alle esigenze che c'erano già nel pre-Covid. Cioè, non è che il Covid ha fatto scoppiare chissà che razza di roba, ma esattamente ha consolidato determinate necessità che prima erano evidenti e dopo sono diventate urgenti. Allora, come tavolo periferia Milano, che è ospitato dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano e composto da varie organizzazioni cittadine, tra le quali anche con commercio, piuttosto che consulta periferia Milano e quindi il lavoro è quello di presidiare costantemente il tema di periferia per capire appunto come muoversi, perché, come diceva Renzo Piano, agli inizi del 2000, la periferia è la città che sarà o non sarà. Quindi questa è un pochettino la sfida. Dopo 24 anni ci siamo mangiati una bella fetta di questi 30 anni, di questo problema dei prossimi 30 anni, diceva nel 2000, siamo nel 2024. Allora, come tavolo periferia Milano abbiamo avviato un percorso che si chiama percorso periferia policentrica. Che cosa serve questo percorso? Serve per valorizzare, mettere a fattor comune tutta una serie di iniziative, indagini, proposte che varie organizzazioni fanno, ma poi rimangono un pochettino nel loro ambito. o meglio, cercano anche di uscire dal proprio ambito, ma si trovano delle difficoltà proprio di comunicazione, di come tessere i rapporti, perché ciascuno ha un po' la propria sfera. Ecco, la periferia ha bisogno invece di un mondo molto poliedrico. Una delle cose interessanti sicuramente che ha fatto ConfCommercio, è stata la seconda puntata che abbiamo fatto a Palazzo Marino la scorsa settimana, è proprio un lavoro sul campo. Qui abbiamo appunto un testo Economia urbane, analisi ed indirizzi. È il progetto CITIS, o CITIS meglio, da questo punto di vista. E quindi è città e territorio, dove sono state fatte tutta una serie di sperimentazioni e iniziative in varie città italiane, tra le quali anche Milano, e sono state un pochettino strutturate in un articolato di sette agili volumetti che però portano a circa 900 pagine. Quindi c'è uno studio significativo da parte sia delle organizzazioni territoriale del ConfCommercio, ma anche avvalendosi di tutta una serie di contributi, tra i quali citiamo il professor Balducci del Politecnico, piuttosto che il professor Magatti dell'Università Cattolica, dove cercano di mettere in campo una riflessione organica rispetto appunto a quella che è stata l'indagine territoriale. Ecco, il lavoro è proprio quello di promuovere la conoscenza di questi contenuti, perché possono essere utili poi a ciascuno che lavora sul territorio. un lavoro fatto per le città, proprio si dedica alle grandi città da questo punto di vista e quindi vale la pena mettere a fattor comune. Ci sono alcuni elementi interessanti. Uno che crediamo sia fondamentale è quello della comunicazione, della relazione tra le varie realtà che operano sul territorio. Perché poi magari Dario Bossi che sicuramente è stato un attore significativo sul territorio anche per la sua esperienza personale oltre che professionale. Ma direi che proprio questo qui è il punto. Cioè, ci sono varie organizzazioni, fanno tutta una serie di sperimentazioni, iniziative interessanti, pubblicano, fanno anche delle pubblicazioni dicendo bisogna lavorare sul territorio, intessere rapporti con altre realtà sul territorio. Poi quando si tratta un po' di partire si tentenna. Perché è chiaro che è una modalità completamente direi sufficientemente diversa dal consueto che apre a una serie di problematiche organizzative. Perché la devi vedere un po' in una maniera diversa. Però su questo credo che ci dobbiamo aiutare perché questo qui è esattamente la strada come è anche documentato da questa pubblicazione corposa che vale la pena in pillole però mettere a fattore comune. Perché stavo guardando c'è veramente di tutto di più sono indicatori pazzeschi che hanno a che fare appunto con le aree urbane soprattutto i capoluoghi. Ho visto che Milano vince il medagliere delle functional urban area. Ho visto che siamo la migliore in Italia da questo punto di vista. Ma è interessante vedere anche il perché. Se ho capito bene ci sono anche una ricerca su l'ho visto qua dentro ho dato veramente la lettura veloce adesso quindi spero di non sbagliare. anche di quanto appunto le economie urbane e locali avevano a che fare con il territorio. Cioè quello è anche fondamentale il legame che le imprese devono avere con il territorio e con l'area geografica in cui sono inserite anche. A Milano c'è ancora questa cosa? Si è persa? No, diciamo che il progetto City è un progetto molto bizzioso perché è un progetto nazionale erano sei temi centrali di cui Milano e Parma si sono interessati per la parte dell'urbanizzazione. È chiaro che il famoso concetto della città vicina in 15 minuti è un progetto ovviamente sempre molto importante. Evidentemente uno degli scopi e giustamente come ha detto il Presidente Cherubini l'abbiamo presentato alle periferie perché durante questo convegno in modo da avere uno scambio c'è un'esperienza precisa per quanto riguarda l'associazione di Niguarda che evidentemente avevano un problema in una piazza quindi c'è stato un coinvolgimento molto attivo da parte dell'associazione molto attivo da parte nostra attivo anche evidentemente il municipio di cui faceva riferimento la zona di Niguarda e attorno a questa piazza si è realizzato evidentemente il vivere in una logica molto importante quindi è chiaro che tutto questo fa parte di innanzitutto per la problematica evidentemente degli esercizi commerciali che sono evidenti in determinate cose ormai la famosa battaglia di retroguardia la grande distribuzione il supermercato fa chiudere il piccolino l'abbiamo superata sono sicuramente superate c'è anche una iper specializzazione se lei ci fa caso oggi come oggi al di là di questo diciamo crescenti de or dovuti alla problematica del covid che hanno evidentemente allargato quindi determinate situazioni però c'è molto specializzazione nasce la tosteria fa solo i toast nasce l'amburgeria quindi ognuno tende nel cibo a Milano siamo stati abbiamo inventato qualsiasi cosa quello che fa solo gli gnocchi quello che fa solo i ravioli è chiaro che questa è una forma di specializzazione che può diciamo aiutare avere una propria branchia e nello stesso contempo sicuramente in determinate zone dove c'è una certa difficoltà non tanto nel trovare ma nel diciamo legato dietro al commercio c'è la vita della diciamo della zona della realtà ciò che si realizza nei paesi cioè evidentemente qualcuno ha detto Milano è la città per la gente che ci vive o per la gente che ci passa questa è una grossa differenza la gente che ci vive vuol vivere la gente che ci passa la attraversa e non gli interessa il discorso quindi è sempre la la battaglia tra residente e city user diciamo esatto e come lei ben sa dalle 650 alle 750 mila persone che ogni giorno entrano a Milano è un discorso ben diverso usano consumano lavorano ma poi la problematica della città resta e non vorrei trascurare l'aspetto degli anziani quindi come vedere la situazione è molto complessa più di una Milano forse ormai in questo momento stiamo vivendo una stagione lo si vede dalle prenotazioni degli alberghi mentre prima era un turismo professionale legato alle fiere alla moda legato alle settimane adesso sta diventando veramente un turismo vero turismo una riscoperta diciamo delle bellezze della nostra città quindi sta cambiando e sta crescendo molto stiamo cercando un dato perché ho visto qualche giorno fa appunto se parliamo di turisti ad esempio di chi viene più di 12 milioni di turisti previsti solo per quest'anno cioè una cosa le cifre esorbitanti ormai per una città che non sempre poi si trova pronta ad avere questo tipo di turismo che non è più un turismo professionale ma proprio il turismo anche delle famiglie di quelli che vengono a spendere anche più di un giorno una volta era tappa tra Venezia e Firenze e Milano passavi e vedevi e te ne andavi invece adesso non abbiamo la pretesa di superare realtà e bellezza come Firenze o Venezia ma sta cambiando sta cambiando tanto c'è chi viene qua una volta era di passaggio adesso c'è chi viene qua insomma siamo quasi in chiusura Walter cosa abbiamo in pentola cosa bolle ci sono tante iniziative che riprenderemo sicuramente a settembre con le giornate periferie artomi che si leggono da un certo punto di vista uno la conoscenza del territorio di quello che funziona e di quello che non funziona perché le giornate periferie artomi che cosa vogliono mettere a fattore comune vogliono mettere a fattore comune la conoscenza dei singoli lembi del territorio del quale è composta la periferia abbiamo 166 toponimi diversi e quindi conoscere questi toponimi attraverso i beni artistici paesaggistici museali architettonici che ci sono è uno stimolo anche dal punto di vista conoscitivo e anche della presa in carico e cura di queste cose nello stesso tempo hanno anche una piccola sponda turistica perché prendiamo la certosa di Milano in Garegnano che sostanzialmente non è conosciuta dai milanesi figuriamoci dai turisti malgrado tutti quanti ci passino all'uscita dell'autostrada allora turismo può essere utile a aiutare anche l'abitare perché il tema appunto oltre che a usare la città c'è anche qualcuno che vi dimora Dario Bossi parlava prima della popolazione anziana ecco allora il tema della conoscere la città vivere la città arricchire la città ma abbiamo anche tante iniziative musicali ma poi il tema fondamentale rimane cambiare le regole alcune regole burocratiche e tra queste alcune regole dell'organizzazione dell'amministrazione comunale perché ci vuole un'amministrazione vicina al territorio i municipi rimangono una cenerentra da oltre 50 anni e ora di cambiare la modalità di approccio non possono essere delle sentinelle devono essere delle risposte e farsi carico di quella che è la realtà perché tante cose sono abbandonate sul territorio chi è che se ne cura? ecco i municipi esattamente dovrebbero avere la cura anzi devono avere la cura del territorio nella sua complessità municipi nascono nel 2016 noi siamo in onda praticamente dal 2017 quindi da un anno dopo la loro istituzione abbiamo già iniziato a dire questa cosa la continuiamo a dire finché non cambierà continueremo a dirla nonostante le 100 con qualche anche proposta con tante proposte mi viene da dire in realtà la proposta di come potrebbe essere l'abbiamo detta più di una volta quindi insomma Walter grazie per ricordarci sempre appunto dell'importanza che i municipi devono avere all'interno della nostra città grazie mille anche al Dario Bossi consulta del presidente ConfCommercio questa è giusto la sua non volevo sbagliare un attimo poi grazie mille davvero Bossi grazie grazie a voi saluti a tutti ConfCommercio e buon lavoro insomma ne avete proprio bisogno un gran buon lavoro che state facendo comunque perché ne ha bisogno appunto anche la città e i cittadini grazie Walter noi ci vediamo a settembre tutto bella bronzato tutti vediamo a settembre va bene quel che si può va bene grazie mille Walter Cherubini buone vacanze Walter Cherubini Focus Periferie come dicevo appunto torna a settembre sempre qua su Good Morning Milano per raccontarvi tutto quello che sono le nostre periferie grazie mille arrivederci e a presto